Una violenza, comunque, quando usa questo coso che è lì La mia mogliettina che mi sta facendo una torta a tema per il mio compleanno Sarà molto bello E il tema sono le querele Probabilmente ho più querele che anni Look of the day with my new Calcedonia Tights These are inspired by the different cities and traveling Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Che mi ha permesso di pubblicare con loro E soprattutto a Fedes che mi ha fatto la p***a fazione Fede mi hai fatto un regalo bellissimo Grazie a tutti Grazie a tutti